I premi Flaiano sono una pietra miliare della nostra città. Mai metteremmo a rischio i premi Flaiano, anche perché i premi Flaiano sono finanziati dal Comune di Pescara, quest'anno con 50.000 euro e con l'utilizzo, con un prezzo simbolico del teatro d'annunzio e dell'Aurum, e quindi per noi è impensabile che i premi Flaiano non si svolgano nel migliore dei modi. Tant'è che ieri la proiezione c'è stata regolarmente. Così il sindaco di Pescara Carlo Mascia all'indomani della conferenza stampa della presidente dei premi internazionali Ennio Flaiano, Carla Tiboni, preoccupata dopo aver scoperto durante un sopralluogo che al teatro d'annunzio erano in corso dei lavori, sui quali non era stata informata. Si è temuto che potessero saltare sia le proiezioni del Flaiano Film Festival che la serata conclusiva della cinquantesima edizione dei premi. Questa mattina il primo cittadino ha incontrato i giornalisti insieme agli assessori alla cultura, Maria Rita Carota, al turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese e al presidente dell'ente manifestazioni pescaresi Walter Meale e ha spiegato che gli interventi iniziati a maggio sono stati interrotti a causa del maltempo e dovranno essere completati entro settembre. Si sta impermeabilizzando la parte superiore, quella delle gradinate, ma le gradinate sono disponibili la sera per la manifestazione perché i prodotti utilizzati sono prodotti assolutamente ecocompatibili, non tossici. In questo punto di vista possiamo stare tranquillissimi. Se ci fosse stata una telefonata avremmo risolto immediatamente il problema, se c'è stato un equivoco dovuto al rapporto tra l'ente manifestazioni e il premio Flaiano, quindi la fondazione, ce ne scusiamo anche, ma certamente non dipendeva dal comune, ma il numero di telefono mio, il numero di telefono degli assessori e il numero di telefono dei consiglieri comunali è sempre attivo. Pronta la replica della presidente Tiboni. Credo che il sindaco stia invertendo i ruoli. Io ho fatto un contratto, ho sottoscritto un contratto con l'ente manifestazione pescaresi, regolarmente saldato in tutto il suo contenuto di accordo, di obbligazione e credo che fosse il comune o l'ente a dovermi avvertire che sarebbero iniziati i lavori perché io, come soggetto contraente, non ero tenuta a sapere che lì sarebbero iniziati i lavori e soprattutto non potevo saperlo. Forse dovevano informarmi anche del fatto che veniva usata una sostanza chimica di cui io ad oggi non conosco il contenuto. Come posso dire? Un incidente di percorso, usiamo questo eufemismo, nei confronti dei premi internazionali Flaiano. Forse c'è una congiunzione astrale che devo ritenere non sia favorevole.